ciao e bentornati sul canale bentornati carissimi amici papis and me della panini abbiamo visto lo starter pack che conteneva anche questo piccolo pettirosso poco rosso ma carino e morbido e gommoso e poi colpiscilo io so fiducia in te sarà so che ce lo puoi fare ok basta la recensione ha cambiato adesso è colpisci il pettirosso colpito allora abbiamo già visto l'album e potete andarlo a rivedere il video in cui presenteva presentavamo lo starter pack abbiamo si incastra proprio troppo bella con la confezione abbiamo preso una confezione da cinque bustine che apriamo e altre cinque bustine a parte credo tutti i tipi di cani che c'è anche questo questo bustino no no guarda qui questi sono diverse quindi adesso in maniera abbastanza rapida intanto c'è il tasto iscrivetevi al canale iscrivetevi non costa niente e la campanella per rimanere aggiornati sui video commentate sotto e condividete adesso pronti a partire e via io parto e metto lo zoom più vicino perché in questi casi bisogna stare zoomati vicino eccolo qua questa è la card poi abbiamo una grattare le ho divise va bene le preferite ce le ho io vai un musetto carino una che brilla vedete che in prima fila già un cagnolone che sembra quasi triste perfetto una due due tre tre non ne ha mischiate molto bene panini però è meglio questo che è stupendo questo è carinissimo questo è un disegno poi abbiamo un dalmata guarda che bello questo vi ricorre fantastico prego tocca a te vai cards carina più più in alto sono non si vedono qui carino di cui questa è doppia di già con uno sfondo che cambia quasi 3d io ho trovato questa come cards queste sono della paginone centrale dove ci sono i personaggi disegnati tipo fumetto aspetta che forse abbiamo completato intanto che tu fai vedere quello vediamo se l'altra parte della scatola è questo sì dammi e l'abbiamo completata questa aspetta più in alto ho trovato una nello stesso pacchetto vabbè completata ci sono un pezzettino forse quella lì addirittura è doppia poi queste sono carine guarda belle apro questo e poi mi lascio per ultimo questo va bene io intanto faccio guarda questa con tutti i cuoricini un dalmata un altro special ci sono le bambine chissà se magari usciranno anche loro come personaggi io apro il mio ultimo pacchetto te ne sono rimasti due no me ne è rimasto uno uno allora più quello che sto vediamo questo qui è una di qua carino carino bello ma un filino ripetitivo tutti i cuccioli di cani è carino come dicevamo ci piace molto però devi essere proprio un appassionato solo di cani perché l'album è solo sui cagnolini e intanto io che raccolgo le cards e divido le figurine e poi li attaccheremo lo stesso perché è rilassante non abbiamo ancora fatto i video mi piacciono i cani però preferisco i gatti sinceramente e noi abbiamo un gatto c'è poco da fare si è visto anche in qualche video il gatto che abbiamo si tipo è salito sul tavolo mi accolava partecipava alle recensioni perché gli piaceva partecipare tutte le volte che in qualche foto ci sono io lei sempre si deve impicciare lei deve essere sempre in ogni foto che a parte quando che ne so abbiamo fatto una vecchia foto al mare quindi non ci può essere quindi ricordatevi di attaccarle bene scherzo le figurine sapete che io sono un po' fissato con l'attaccarle bene le figurine mentre intanto le metto a posto e Sara riapre il piccione trovato nel pettirosso vedete che ho fatto un bello schiocco facciamo gli schiocchi e come sempre noi vi notiamoci al prossimo video ciao